Oggi 43esima puntata Valentina, di cosa parleremo oggi? Oggi partiremo con un contenuto frizzante, un test della Junt E-Trans by Marco Tagliaferri, un breve test. Poi passeremo all'intervista a Kevin Pezzo Rosola, giovane promettente della mountain bike, o per meglio dire della bici da strada, ma impareremo a capire un po' le sue varie discipline, e poi per finire un confronto bici da corsa contro mountain bike, o meglio i 10 motivi per cui preferire la mountain bike, ma noi siamo anche un po' di parte. Via la puntata! Ed eccoci all'inizio di questa nuova puntata, che inizia con il test del nostro nuovo membro dello staff, Marco Tagliaferri. Membro Junt E-Trans bici al mountain, una bici un po' a tutto fare, motorizzazione Yamaha, prova a dirlo Yamaha, vai? Yamaha! Demo la linea al test, breve test, lungo test, brevissimo test. Come va la nuova Giant E-Trans? Scopriamola assieme! Oggi parleremo della Giant E-Trans Plus, una bici elettrica pensata appositamente per l'all mountain e quindi per il divertimento. Il cuore di questa bici è il motore Yamaha, customizzato appositamente per il gruppo Giant. Sei sono i sensori che sviluppano questo motore, che serve a dare una sensazione di pedalata il più possibile veritiera e performante. La bicicletta ha delle geometrie valide, possono essere modificate, quindi abbiamo un angolo da 65.8 piuttosto che da 66 gradi e un piantone sella 76 o 76.7, a seconda del low o high, a seconda di come vogliamo gestirlo noi. Per i freni si sono affidati a Shimano, con il classico e affidabilissimo Shimano XT, con pinza da 4 pistoncini. Per quel che riguarda invece il comparto ammortizzatore, abbiamo la Fox 36 performance all'interiore, float naturalmente ad aria, e il DPX2 per quel che riguarda la parte posteriore. Le ruote sono di casa Giant, mentre il manettini cambio e il cambio stesso sono manettini XT, cambio XTR, con la cassetta da 12 velocità 10.51, quindi si va un po' dappertutto. Per quel che riguarda le gomme, abbiamo utilizzato un Hardtent da 2.6 per l'anteriore e un Dissector sempre da 2.6 al posteriore. Come va questa bici? La bici funziona bene. Anche nella posizione 1 il motore spinge bene, non ha questi grandi strapponi, quindi nelle salite trialistiche mi sono trovato bene, senza cappottamenti vari, perché aveva moduliabilità. Era come avere le ridotte, quindi anche sulla neve, in quelle situazioni dove tendenzialmente scivola, calibrando bene la spinta sui pedali, il motore dava la giusta energia che ci permetteva di salire anche su grandi pendenze. Quindi ottimo, benissimo la posizione in sella, c'è la possibilità di lavorare sul manubrio tanto, quindi alzarlo, abbassarlo, si può lavorare 4-5 cm di differenza, il che significa che possiamo avere una posizione più avanzata, più caricata per la salita, o se vogliamo una posizione più sicura, riusciamo a fare tutto questo lavoro. Quindi hanno fatto un bellissimo lavoro. Bene anche il piantone sella, che ci permette di avere una posizione sui pedali, dove la spinta delle gambe è molto efficace. Quindi tutto il comparto salita, il comparto escursioni, molto bene. Bene anche la durata della batteria. Se non lavoriamo con la modalità turbo, possiamo stare in giro davvero diverse ore, senza grandi problemi. Quindi, pensata proprio per questo tipo di bici, per una bici d'escursionismo, è azzeccata anche da questo punto di vista. 3, 2, 1, vai! L'Hall Mountain è avventura, è scoperta, ma è soprattutto discesa. Quindi il punto focale di questa bici è capire come funziona in discesa. È una bici che funziona bene, è buona la geometria, stabile, ci permette di lavorare in ogni condizione e di divertirci. Inoltre la possibilità di cambiare assetto anche in corsa con due brugoline, ci garantisce la possibilità di avere una bici molto più sdraiata in discesa, che ci dà sicurezza e ci permette di guidare al meglio. Io sono un fan del 29-29, perché secondo me è soprattutto in discesa, ci dà quella stabilità e quella uniformità di lavoro che è fondamentale per divertirsi ed essere più sicuri. Quindi anche da questo punto di vista, secondo me la performance in discesa guadagna dall'avere il 29-29 e non come succede per altre bici. Quindi secondo me molto bene. Il fatto di avere due gomme dedicate all'enduro è altro punto di riferimento importante. Forse l'unico aspetto che mi ha lasciato un po' perplesso, che mi ha dato qualche pensiero, è stata la forcella davanti. Quindi spieghiamola. La forcella è super sensibile, lavora benissimo, ammortizza tutto, benissimo il ritorno, quindi copia anche i colpi in sequenza senza problemi. Se però andiamo a cercare discese con grandi pendenze, piuttosto che a caricare molto forte nelle curve, ecco, forse è una forcella un po' poco sostenuta. Immagino che sia pensata per un utilizzo escursionistico e quindi da quel punto di vista, bene, se si vuole ottenere qualcosa in più, aprire un po' di più il gas, ottenere qualcosa in più nei tratti scassatissimi, nelle discese ripide o così, forse bisognerà lavorarci un po' sull'idraulica. Però, secondo me, stiamo parlando di una parte piccola del pubblico di questa bicicletta. Per la maggior parte sarà una forcella fantastica perché non stanca, coppia tutto e permette di andare come fossimo sul velluto. Quindi, da quello bene, se si vuole qualcosa di più, ci può lavorare sull'idraulica, ma a quel punto non ci sono problemi. Nell'insieme, una bici molto divertente, adatta a chi vuole fare escursionismo, adatta anche ad un pubblico di entry lever, quindi persone che si trovano per la prima volta su una bicicletta elettrica perché perdona molto, perché assorbe tutto e quindi non stanca molto. Quindi, molto bene questa bicicletta approvata. Sì, rientro e ora passiamo un po' all'agonismo. Sei presente il rumore dei tasselli che si infrangono nel fango e poi quel rumore di zigan, cincurva? Che poesia! Ok, intervista a Kevin Pezzorosa, figlio d'arte, anche se non mi piace sempre dire figlio d'arte perché ha dimostrato anche lui in prima persona delle grandi qualità. Non è sempre bello paragonare un atleta e i suoi genitori, però Kevin ha dei grandi genitori. Ma adesso andiamo a vedere anche lui cosa ne pensa un po' anche su questa situazione, un po' il suo futuro, un po' il suo passato, no, è anche giovane. Quindi presente e futuro. Intervista a Kevin Pezzorosa. Eccoci qui con Kevin Pezzorosa. Se una persona dovesse chiederti, oppure presentati, se io ti chiedo di presentarti in poche parole, come ti presenteresti? Eh, intanto mi chiamo Kevin e ho iniziato, beh corro in bici, però ho iniziato col basket, quindi ho fatto sei anni di basket e poi sono passato alla mountain bike dal mio primo anno. Ho fatto un po' di mountain bike fino a due anni fa e poi mi sono avvicinato più alla bici da strada, alla bici da corsa. E adesso piano in piano sto andando sempre più verso specializzarmi sulla bici da corsa e quindi ho lasciato un po' stare la mountain bike e la fuoristrada, diciamo. Cosa che ti ha fatto fare questo cambiamento? Solo un discorso di vile denaro? No, comunque se vuoi avere un po' più di futuro, soprattutto in Italia, mountain bike non c'è molto, quindi per forza se vuoi avere un po' di futuro e guardare avanti, la strada è dove c'è più futuro. E in un tuo breve futuro, prossimo futuro, ti vedi anche in mountain bike o dove ti vedi? Eh, sarebbe bello continuare tutte e due le discipline, sia mountain bike e strada, però mi darei più sulla strada, focalizzarmi più sulla strada. Sì, infatti non è semplice fare un po' di tutto, dopo di Matteo Van Der Poel ce n'è uno, però non si sa mai. Il tuo cognome ti pesa? Avresti preferito chiamarti Mario Rossi o per te o ti pesa essere sempre paragonato, diciamo, essere paragonato appunto o alla mamma o al papà, visto comunque che hai dimostrato delle qualità, diciamo, a livello individuale? Allora, pesava, all'inizio pesava un po', perché comunque c'era un po' di caso, c'era questi cognomi, quindi andavo a legare, magari pretendevano, all'inizio pretendevano tanto gli altri e allora mi sentivo un po' di pressione addosso, però adesso è passato e sono tranquillo, nessuno mi chiede niente, quindi mi dice niente. Sì, sì, poi i risultati sono dimostrati, quindi alla fine sei riuscito un po' anche a tirarti su anche a livello, diciamo, a livello di Kevin e non solo come figlio di. Altre passioni, altre bici, sappiamo che ti piacciono molto i motori e la tua società ti ha fatto qualche commento sulle tue passioni, ti dico questo perché so che il papà in passato aveva avuto dei problemi a coniugare tipo la sua passione con la moto alla professione proprio del ciclista professionista. Eh sì, perché sono andato in una squadra austriaca, KTM, questo posto KTM, quindi a me piacciono tanto le moto. Eh sì, è difficile perché da contratti, soprattutto professionisti, comunque già anche da under così iniziano ad essere vietati gli sport pericolosi, sia per le gambe ma anche in generale come gli sci o la motocross. A me piace tanto andare in motocross, enduro, quindi fuori stagione ogni tanto qualche giretto si fa. C'è qualche rammarico verso il passato a livello di risultati? Qualche cosa che avresti voluto vincere, che ti è mancato? Ah, sinceramente un po' l'italiano che l'ho perso per un centimetro in volata, però non dovevo neanche essere lì perché comunque ho fatto l'italiano su strada, l'italiano a cronometro, sono andato lì un po' sì lo faccio, quindi è tutto più che bene. In questo momento come ti stai allenando, o meglio la domanda è più dove trova gli obiettivi, la forza di allenarsi un giovane come te in un periodo come questo dove ci sono tante incertezze? Beh, ci sono tanti stimoli, però soprattutto anche adesso che magari non si corre, comunque così, guardare avanti con i ritiri con la squadra, così, vedere i primi appuntamenti, un posto in obiettivo e quindi riesci bene a allenarti, a prepararti. C'è già un calendario gare di massimo, comunque adesso stai andando un po' diciamo a sensazione per dopo... No, adesso stai andando un po' a sensazione, comunque non si sa bene ancora quando si riparte, ha detto sì, fine febbraio, inizio marzo, però tante gare li stanno annullando, quindi non è ancora bene preciso, però più o meno sì, a sensazione dopo... Sempre a livello di allenamento che si parla tanto di multidisciplinarietà, l'ho detto bene, non è facile, adesso siamo già a febbraio, marzo, quindi manca poco alle gare, ma sei un ragazzo che punta ad allenarsi specificatamente in tipo bici da corsa, perché bisogna appunto correre in bici da corsa, o ti piace anche alternare varie discipline? Qual è stata un po' la tua preparazione tipo, diciamo, al di fuori dell'allenamento specifico da bici da corsa? Beh, di solito in inverni scorsi facevo anche cirrocross, quest'anno l'ho lasciato un po' stare, però a me piace troppo andare anche in mountain bike, quindi ci vado... Ogni tanto cambio, io cambio sempre strada, mountain bike, fare sport, c'è anche un corsa a piedi ogni tanto, così per alternare, così non ci si annoia mai, ci si diverte sempre. Per finire, visto che ti abbiamo messo un po' in ridicolo col video mountain bike, ti ringraziamo di esserti prestato, sei d'accordo col messaggio che diamone in quel video, dove il biker emerge un po' su... Beh, a certi punti di vista sì, però tutte e due le discipline si completano, quindi l'enduro a mountain bike, poi fuori strada insegna tanto la strada e anche viceversa, quindi sono due discipline che si combinano bene. Se come in tutto bisogna aprire un po' la mente, prendere il buono da ogni disciplina. E bene, per chi non conosce Kevin, lo invitiamo a seguirlo sicuramente, ci sarai sui social, basta solo digitare Kevin Pezzorosola. E che dire, alla prossima intervista vuoi fare un saluto particolare, non so, salutare il tuo amico biker Matteo che... Sì, voglio salutare Matteo che... Nei momenti difficili c'è sempre e... Adesso pianco. Alla prossima ragazzi. Adesso ultima parte dell'episodio con... Quelli che sono un po' secondo noi i dieci motivi per preferire la mountain bike alla bici di corsa, rendendoci conto che purtroppo siamo un po' di parte. Ma quindi Valentina, preferisci la mountain bike alla bici da corsa? Eh, 365 mountain bike, mi sa che sì, siamo un po' di parte. Hai mai usato la bici da corsa? Ammetto di no. Mi piace metterti in crisi, infatti c'è una volta che faccio una domanda. Ricordiamo che... Anzi, ringraziamo Kevin che si è dimostrato molto simpatico e diciamo si è messo un po' in gioco, si è messo un po' in ridicolo, quindi... Comunque, spazio il filmato dove troviamo i nostri Matteo e Kevin che impersonano il bike e... lo stereotipo del... del bici da corsa... o iolo... L'inasservito. Ed ecco dieci motivi per preferire una mountain bike a una bici da corsa. E tu? Da che parte stai? Meglio la concretezza dello stradista? Con allenamenti mirati volte a migliorare le sue performance? O la scanso unatezza del biker più estroso e fantasioso? Motivo numero uno, è più veloce nelle strade secondarie. Il biker ha maggiori possibilità di fuga da un eventuale inseguimento da polizia californiana. Il tutto grazie alla sua amicizia con lo sterrato. Lo stradista, ruote fini e amore per il bitume, non potrà mai neanche lontanamente sperare ad una fuga all'azzard. Lei è fuori comune! Verrà ben presto accerchiato! Lei è accosti! Non me lo faccia ripetere due volte! L'intimo l'alt! Mani indietro alla schiena! Motivo numero due, il biker è più trendy. Il biker nel suo vestiario largo e scarpetta flat sarà sempre a suo agio, anche nel caso di una inaspettata commissione imposta nel bel mezzo del giro. Lo stradista, nudo nella licra e in completa balia delle sue tacchette, incespica verso la posta, attirando l'attenzione di tutti i presenti, compreso pure il guardiano della banca. Motivo numero tre, l'inverno si sconfigge facilmente. Il biker non avrà paura del freddo invernale. Come alleate avrà la bassa andatura media e il suo essere un tutt'uno con la natura. Non è raro intravedere un biker intento ad abbeverarsi da una pozza d'acqua e, nel caso di biker anglosassone, l'aggiunta di un twinings è d'obbligo. Lo stradista sfreccia e si ghiaccia sugli asfalti di tutto il mondo. La vestizione prima dell'uscita può durare più dell'uscita stessa. Durante l'allenamento non è raro vedere stradisti sbattere tra loro le mani, neanche fosse una ballata di Shakira. Motivo numero quattro, il pelo fa uomo. Il biker, quando passa di fronte a una bella ragazza, mostra il suo petto villoso e la percentuale di successo può aumentare del 17%. Lo stradista, nella sua totale depilazione, può spaventare il gentil sesso, visto il rischio tangibile che la quantità di pelo sia minore di quello presente nella compagna. Qual è la prima reazione? Shock! Motivo numero cinque, ogni ammaccatura è avventura. Per il biker, ogni tacca o segno sul telaio è una storia di un'avventura, che sia un giro epico o una caduta clamorosa di faccia. Tutto gli rimane impresso e glielo si legge negli occhi e nella percentuale di svalutazione del telaio. Lo stradista passa in rassegna l'intero telaio dopo ogni uscita. Nel caso di ritrovamento di un segno, arriva la morte interiore. Le notti insonni sono frequenti e la moglie potrebbe farsi venire stranide riguardo la lealtà sentimentale del marito. Non pensando che in mente sua c'è solo la bici! Motivo numero sei, lo stile batte il fitness. Per il biker, l'obiettivo di ogni uscita è il divertimento. Basta un salto ben fatto, una pubblicazione su Instagram decisa e piovono migliaia di like. E la sera, festa grande con gli amici. Per lo stradista, l'obiettivo di ogni uscita è la ricerca della crisi di fame. Dopo aver postato l'altimetria del giro odierno, somigliante a un elettrocardiogramma di un criceto, riceve solo un like. Forse 3.000 metri di dislivello sono pochi, meglio aumentare la prossima volta. Pensa in cuor suo. E dorme fino al giorno dopo. Motivo numero sette, la probabilità di furto diminuisce. Si sa che i casi di furto aumentano sempre di più. Secondo recenti studi di 365TV, nel caso di uno sfortunato furto in casa, la MTB ha una probabilità maggiore di essere sporca rispetto alla bici da corsa. Quindi, ecco che il ladro, dopo un piccolo ripensamento, ruberà la bici più pulita. Motivo numero otto, maggior riccanza. Il biker riesce a godere appieno della sua mountain bike, anche se ha qualche anno di vecchiaia. Anzi, ricordo con piacere quel giorno che l'ha presa, anche se lontano. Magari lo stile di riding è cambiato, ma il divertimento è sempre lo stesso. Lo stradista invece, sfogliando cataloghi, intravede che il nuovo modello della sua bici è cambiato. Dal colore rosso scarlatto si è passati all'amaranto. E subito nascono pensieri di cambio bici! Motivo numero nove, maggior recupero sui passi alpini. Il biker sa che, finita una salita, c'è sempre una discesa. E la gioia lo assale. Per spuntino si ingolfa di pane, salame e birra, pregiudicando nettamente anche le prestazioni discesistiche. Ma poco importa, tanto con i sensi inibiti la sensazione di andare più forte. Ah, e mancanza di un'apre bottiglia? Fa lo stesso, ci si ingegna! Lo stradista invece, scollina sui passi alpini, ma non può fermarsi. Pena congelamento. Quindi, barretta energetica e carta del giornale sotto l'indumento. Il tutto in precario equilibrio. Motivo numero dieci, si può rovinare la media. Il terzo tempo in mountain bike rischia di essere più lungo dell'allenamento stesso. Un'ora di giro, due ore a chiacchiere al bar. Lo stradista deve avere molta personalità nel fermarsi. E dopo aver bevuto il tanto sognato caffè, deve accingersi il più in fretta possibile verso l'uscita del bar. Pena la perdita del gruppo di amici. Intenti a tirare dritto senza fermarsi. Con l'obiettivo di creare selezione nel plotone. Motivo extra, fidanzata più felice. Ecco il tipico esempio di un ritorno di un biker. Amore, preparati che ti sbuccio come una mela. E questo di uno stradista. Ciao bebì, sono distrutto. Tutta la pasta che sono in caldo di carboidrati. E siamo già alla fine anche di questo episodio. Anche se eravamo molto belli. Con questi vestiti nuovissimi. Naturalmente ci dovrete dire se magari vi piacciono. O comunque li vedrete nell'e-commerce. Valentina, sento odore di e-commerce. Ti piace il mio slogan? Sì, ammetto che quella maglietta te la invidio molto. Potrebbe essere che magari ne sparisce una dal magazzino. Valentina, te invidi il mio petto. Alla prossima puntata ragazzi. Continuate a seguirci. Yeah. Alla prossima puntata. 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 Grazie a tutti